Il peggio è passato. Per la realizzazione della rete fognaria resta da completare soltanto il tratto che collega via Sogliuzzo a via Pontano. Barano, Eternit, erbaccia i rifiuti al parcheggio della Starza. Da mesi un serbatoio di Eternit abbandonato non viene rimosso e l'area non viene ripulita. Luigi Mennella, le partecipate di Casamicciola sono da rianimazione. Per i consiglieri di opposizione, lo stato di salute dell'Amca e di Marina di Casamicciola è precario. Troppo alti i costi per i cittadini di Casamicciola. Lo sport, promozione contro il Monte di Procida per la nuova Ischia, ancora un pari. Secondo pareggio consecutivo per i gialloblè, le interviste del dopo partita di Procida e Real Forio e dopo il telegiornale a bordo campo in studio i calciatori Ciro Saurino, Vincenzo Monti e Gigi Mennella. Benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Tele Ischia. Ischia quindi cantiere aperto. Fervono ancora i lavori per la condotta fognaria su via Sogliuzzo che si dovrà collegare con Ischia Ponte e Piazza degli Eroi. Siamo a buon punto, chiedo ai cittadini di pazientare ancora. Lo dichiara il vice sindaco di Ischia Enzo Ferrandino. I momenti più brutti sono comunque alle nostre spalle. Sentiamo il vice sindaco. Ischia Comune ancora a Gruviera, ancora a lavori pubblici e c'è chi si lamenta. Enzo Ferrandino. Guarda che i lavori stanno volgendo al termine. Abbiamo adesso come cantiere aperto quello lungo via Sogliuzzo che ci serve per collegare delle vasche che dovranno essere realizzate a via Pontano con la fogna di Piazza degli Eroi che scende poi giù al depuratore. Il peggio oggettivamente è passato, quindi alle nostre spalle. Adesso dobbiamo concludere questi ultimi stralci di intervenio sul territorio e poi avviare la documentazione per la reintegra delle risorse finanziarie che ci devono pervenire dalla regione Campania. Quindi in questo chiedo alla cittadinanza di portare un altro po' di pazienza perché i momenti più brutti sono oggettivamente alle nostre spalle. Un serbatoio di Eternit, Erbacce, rifiuti vari e cumuli di terreno ammassato a seguito dei lavori pubblici fanno brutta mostra di sé nel parcheggio della Starza a Barano. Un cittadino di Barano, Franco Palamaro, aveva chiesto su Facebook il 16 ottobre il miracolo a San Gerardo per la rimozione dei rifiuti. Ma a giudicare dalle immagini a circa un mese di distanza nemmeno San Gerardo è riuscito ad accontentare i cittadini. Quando bisogna aspettare per far rimuovere tutto? Si chiede oggi Gennaro Savio. Sentiamo. Gloria a San Gerardo, nella speranza di un suo miracolo per far togliere quel serbatoio di Eternit depositato lì nel parcheggio della Starza da oltre un anno. È questa la frase che il 16 ottobre scorso Franco Palamaro ha scritto sul suo profilo Facebook per chiedere la rimozione di un serbatoio che sembrerebbe inequivocabilmente realizzato in Eternit. Il materiale, costituito da amianto, è che per la sua alta tossicità è stato messo fuori commercio all'inizio degli anni 90 del secolo scorso. Ebbene, a circa un mese dall'appello lanciato sui social network da Franco Palamaro con le nostre telecamere ci siamo recati nel parcheggio della Starza dove abbiamo potuto appurare che non si è verificato nessun miracolo. Infatti, l'amministrazione comunale guidata dal dottor Paolino Buono non solo non ha provveduto a far rimuovere il succitato serbatoio ma non ha neppure fatto ripulire il parcheggio dalle elbacce che altissime svettano indissurbate e dai rifiuti che fanno brutta mostra di sé un po' ovunque. Ma non è tutto. Infatti, qui, a completare il triste quadro di degrado e abbandono sociale ci sono dei cumuli di terreno depositati negli spazi riservati alla sosta gratuita di auto e motocicli. Assurdo. La cosa più rincresciosa è determinata poi dal fatto che in questo parcheggio la pubblica amministrazione è presente solo per elevare multe alle auto che non espongono il ticket del parcheggio a pagamento sulle famigerate strisce blu mentre da mesi si continua a non far pulire e a non far rimuovere i rifiuti presenti. Diritto alla pulizia di quest'area parcheggio che ai residenti della Starza dovrebbe essere garantito quotidianamente visto che pagano una cospicua tassa sui rifiuti e che invece li viene puntualmente negato da molti mesi. A Casamicciola lo stato di salute delle società partecipate è precario lo sostiene il consigliere di Nuova Casamicciola all'architetto Luigi Mennella. Ambe due le società sono da rianimazione con tutte le problematiche. Ad esempio, per l'AMCA non abbiamo ancora approvato il bilancio 2015. la Marina di Casamicciola resta sempre in liquidazione e i servizi saranno accorpati in un'unica società. Sentiamo Mennella. Lo stato di salute delle partecipate a Casamicciola l'architetto Mennella, allora incominciamo da Marina di Casamicciola. Possiamo iniziare da Marina, passare all'AMCA come lei vuole. Lo stato di salute secondo me è precario in tutti e due i casi. Secondo me sono da rianimazione ambe due le società con tutte le problematiche, certamente maggiori sotto un certo aspetto quello di Marina di Casamicciola minori quelle dell'AMCA sotto un aspetto diciamo di importanza per i servizi che la stessa deve dare alla cittadinanza. Resta chiaro che per l'AMCA noi non abbiamo ancora approvato il bilancio 2015 abbiamo, come io ho già dissi in un'altra intervista abbiamo inviato il resoconte alla Corte dei Conti per il riequilibrio senza tener conto che questa partecipata non ha approvato il bilancio non si è capito il perché. In questa partecipata all'AMCA dove abbiamo circa 32 dipendenti i costi al cittadino di Casamicciola sono maggiori del 30% proporzionatamente rispetto al comune di Forio e al comune di Schia. Il comune di Schia che ha un'azienda partecipata e il comune di Forio che lo dà in affidamento comunque in tutti e due i casi la percentuale di onere è maggiore per quanto riguarda i cittadini di Casamicciola non si è capito ancora il perché. Per quanto riguarda la Marina lo stato di liquidazione Lo stato di liquidazione rimane e continua ad essere così nel documento inviato alla Corte dei Conti è scritto espressamente che Marina sarà liquidata e eliminata e che verrà accorpato in un'unica società. Non è scritto che è l'AMCA ma l'altra società in house del comune di cui il comune detiene il 100% è l'AMCA a cui è stato modificato lo statuto e sono state aggiunte tutte le problematiche e tutti i servizi che di fatto oggi ci vuolge Marina. Oltre ai famosi eventi questi eventi che sono incontrollabili sotto ogni aspetto è giusto fare gli eventi per migliorare e per dare una visione diversa del nostro comune al turista che viene però è giusto programmarlo in un certo modo all'interno di un discorso complessivo e non dare soltanto dei soldi all'AMCA che per il famoso Global Festival in Piazza Marina per montare quelle strutture e proiettare quei due film ha preso circa 15.000 euro. È una cifra che va fuori budget dovunque e quindi è giusto inquadrare e verificare. Forse questo è uno dei motivi che non si riesce ad approvare il bilancio. Verifichiamo il perché verifichiamo tutte queste cose e diamo la certezza al cittadino che c'è pure la possibilità di ridurre queste spese. I costi dell'AMCA sono eccessibili e li dobbiamo ridurre. Come è importante pure che i dipendenti di Marina e di Casamiccio abbiano la certezza del loro diritto e del loro futuro anche perché al di là del semplice dipendente intorno al dipendente ruota la famiglia quindi ruota l'indotto ed è giusto dare una certezza a questi lavoratori affinché si possano continuare a lavorare nel modo migliore per il comune di Casamiccio. Questa mattina presso l'Aula di Montecitorio a Roma la Presidente della Camera Laura Boldrini ha incontrato una rappresentanza di sindaci italiani. Tra i sindaci della Campania è rappresentante anche il sindaco di Ischia Giuseppe Randino. L'incontro organizzato da Lanci in collaborazione con la Camera dei Deputati è stato finalizzato a far conoscere i lavori in corso nel Parlamento e ricevere il contributo di amministratori locali sui temi riguardanti gli enti locali quali il piatto di stabilità il trasferimento di contributi e le tasse locali. Domani 8 novembre è stato convocato presso l'Ufficio di Piano del Comune di Ischia un tavolo di concertazione per la definizione degli interventi sociali e sociosanitari nella prima annualità del piano di zona delle isole di Ischia e Procida. Ne dà comunicazione concetta di crescenza che è responsabile del settore amministrativo dell'Ufficio di Piano ambito N13. A mezzogiorno la convocazione riguarda organizzazioni sindacali ed organizzazioni della tutela dei cittadini. Alle 18.30 la convocazione riguarda le onlus le cooperative gli enti di volontariato gli enti di promozione sociale fondazioni enti di patronato ed organizzazioni religiose. Un bilancio positivo per la stagione turistica appena conclusa espresso dall'operatore balneare Giovanni Giuseppe Matter di Orricciulillo abbiamo avuto buoni numeri in fatto di presenze grazie anche alle notizie dei fatti che accadono in Medio Oriente ma purtroppo abbiamo risentito del ridotto potere di acquisto dei clienti continua Matter sentiamo. Un bilancio sulla stagione turistica appena conclusa per quanto riguarda i balneari Giovanni Giuseppe Matter com'è andata? Ah sì forse adesso è ancora un po' presto per fare dei veri e propri percentuali però possiamo certamente dire che la stagione non è andata male abbiamo avuto un gran numero di presenze abbiamo avuto certamente un afflusso di stranieri che non si vedeva negli anni passati un po' l'idea che mi sono fatto è che sia stato non tanto per una vera programmazione ma per fattori contingenti noi sappiamo che in giro ci sono un po' di problemi tra terrorismo e paure ansie varie per cui l'Italia è rimasta un pochettino un bene di rifugio in cui fare vacanze speriamo che quello che è venuto adesso siamo riusciti a fedelizzarlo anche per i prossimi anni per quanto riguarda ecco la qualità del turismo qualcuno dice un turista presente però che spende poco beh ormai il turismo è un effetto di massa non è più elitario come lo era 30 anni fa per cui è probabile che ci sia un calo della qualità nel senso del potere di spesa del turista che viene qui a Ischia o in generale devo dire però che nel periodo di agosto c'è stato un po' un ritorno a quello che erano i fassi del passato con questi ragazzi napoletani un po' di movimento serale in più di ragazzi che facevano schiamazzi e anche danni per quanto riguarda invece la presenza della provenienza del turista dal punto di vista internazionale il tedesco mai si è stabilizzato molto meno rispetto agli anni passati però si è stabilizzato in un numero che non so quantificare in percentuale però abbiamo la loro presenza costante anche perché loro sono un turista che fidelizza molto russi qualcosa in meno anche molto vistoso per quest'anno fa ben sperare per gli anni prossimi una politica che si sta cercando di fare di programmazione mentre invece si è visto un sacco di turismo misto francesi inglesi belgi io ho visto anche dei greci per esempio sono venuti da me e devo dire questo fa ben sperare tutto questo aspettando il famoso progetto per il riparcimento questa è la nostra grande speranza visto che ormai le spiagge sono ridotte a un lomicino e visto che ormai la domanda in questi casi supera l'offerta sarebbe tempo di portare questo progetto che già in una fase abbastanza avviata dovremmo avere verso la metà di dicembre una conferma se sono state accettate le nostre richieste per i fondi rotativi che ci permetterebbero di creare un progetto di fattibilità proprio e poi porterebbe il discorso ancora più avanti certamente se posso dire l'unità l'unione di intenti di tutti i comuni e Giova a favore Siamo allo sport il calcio campionato di eccellenza sabato scorso la bella vittoria in trasferta del Real Forio i biancoverdi hanno battuto il Mondragone al 91esimo con gol di Francesco De Felice per mister Amorosetti si è trattato di una partita giocata male e finita peggio per mister Impagliazzo invece vittoria meritata a coronamento di una buona prestazione sentiamo i due mister sicuramente un passo indietro sotto l'approccio la partita è giocata male e finita peggio probabilmente anche inconsciamente l'ottima prestazione di Corsa Voia e la vittoria con la Sessana probabilmente ci ha distratto un attimo ma noi non possiamo distrarci onestamente noi siamo una squadra di circa spasmodica di punti e non possiamo assolutamente pensare di aver risolto i nostri problemi i problemi sono riusciti sono venuti a gallo un'altra volta in modo ancora più pesante oggi pomeriggio e quindi c'è poco da dire c'è da fare perché in questo momento siamo tutti in discussione onestamente perché non si può alternare prestazioni ottime a prestazioni del genere perché con tutta con tutta onestà oggi è stata una prestazione veramente mediocre niente ci dobbiamo solo rimboccare le maniche e capire che questi errori li pagheremo li pagheremo in termini di classifica in termini di prestazione in termini di affetto sia della dirigenza sia della tifoseria l'unica cosa che io posso garantire è che ci sarà sempre il lavoro sempre l'impegno onestamente questa è una sconfitta che per quanto mi riguarda ha lasciato il segno ma sotto l'aspetto della prestazione sono stato abituato alle sconfitte e riesco ad accettare sempre con molta tranquillità il risultato del campo però come prestazione mi aspettavo molto di più sei congiuto di che la condizione arbitraria di oggi? no io non entro mai Mario tu sai io non entro mai mai all'arbitro del primo e secondo tempo di usare lo stesso metodo di giudizio è sempre soggettivo poi per quanto mi riguarda credo che soprattutto nel primo tempo abbia usato due metri di giudizi differenti io solo questo ho chiesto ma diciamo che siamo venuti qua con il massimo rispetto per l'avversario però con la consapevolezza che stavamo attraversando un buon momento di forma e lo dimostrano le due vittorie una in Coppa Italia e un'altra in trasferta a casa giove è la grandissima prestazione che facemmo domenica contro il Procida dove non ottenemmo i tre punti però facemmo una grandissima grandissima prestazione io per cultura avevo anche sentito qualcuno che mi aveva detto come giocavano questi però per cultura non per sminuire il valore degli avversari non mi interesso più di tanto di quello che quando gioca la squadra avversaria ma mi interesso principalmente di quando la mia squadra è in possesso di pallo di quello che deve sapere fare e casomai limitare i danni nei momenti della fase di non possesso oggi la squadra specialmente nel primo tempo poi ci siamo fatte per i primi 10-15 minuti della ripresa dove si è andato un attimino in affanno ha fatto una buonissima prestazione senza mai subire più di tanto il gioco del Mondragone che comunque veniva da due grossissimi risultati la vittoria del derby di Sessa Aurunca e la grandissima prestazione che ho visto nell'immagine televisiva e a Televomero col Savoia dove meritava ampiamente la vittoria abbiamo giocato contro una squadra in palla però la squadra mia oggi è stata leggermente più in palla poi anche la fortuna di disegnare il gol all'ultimo minuto che ha fatto sì che loro non potessero più rimediare Vittoria anche per il Procida che ha battuto il Napoli per 2-0 soddisfatto della prestazione dei suoi mister Cibelli vediamolo Franco Cibelli allenatore del Procida chiedevi tre punti e una prestazione importante quest'oggi di carattere sicuramente ha condensato per i tre punti invece per quanto riguarda la prestazione direi anche la prestazione buona perché comunque ho rivisto la squadra soprattutto di inizio campionato che cercava di giocare sia il primo tempo che nel secondo abbiamo cercato sempre di manovrare la palla di giocarla come piace a me ci siamo riusciti discretamente diciamo anche il primo tempo è chiaro che in questo momento era soprattutto importante cercare di sbloccare la gara non ci siamo riusciti al primo tempo nel primo tempo quindi è chiaro che può subentrare quel pizzico di nervosismo quell'ansia però fortunatamente subito nel secondo tempo siamo riusciti a sbloccare la partita e poi è chiaro che è stato tutto più semplice però il risultato era importante come ti dicevo però anche la prestazione è buona perché questa è una squadra che vuole deve e può giocare a calcio come piace a me abbiamo perso un po' il filo però oserei dire che siamo sulla strada per ritrovarlo mister bene nella manovra con Rinaldi e Cariello che hanno toccato tante palle qualche errore di troppo sulla tre quarti offensiva poi nel secondo tempo Dodò e Roghi hanno sicuramente dato la svolta rispetto al primo tempo dove c'erano Bacio Terracino Spilabotte e Agata ma proprio quello è il punto anche nel primo tempo mi sono fatto sentire negli spogliatori proprio perché arrivati ai 16 metri avevamo qualche problema ma soprattutto di natura della concretezza della determinazione perché arrivavamo con una certa anche con una certa facilità ai 16 metri poi è chiaro che là invece abbiamo qualche problema evidentemente dobbiamo lavorare ancora ma ripeto non tanto su una questione tecnica ma soprattutto sulla testa per far capire ragazzi che in quella zona del campo ci vuole più determinazione campionato di promozione secondo pareggio consecutivo per la nuova Ischia Almazzella di Fondobosso finisce 1-1 con il Monte di Procida le reti di Arcobelli e Colandrea vediamo il servizio ci siamo si parte iniziata nuova Ischia Monte di Procida sull'out di sinistra insiste Camorani Camorani va al cross Mendil non ci arriva il cross stavolta c'è Mendil non riesce a girarsi Arcobelli il pallone resta lì Del Giudice non esce ora va col pugno vedremo anzi parte Marano traiettoria giro parata da Del Giudice c'è ora occhio al contropiede della nuova Ischia Marano apertura per Arcobelli a spazio Arcobelli è già in aria Arcobelli pallone per Cuomo ancora Arcobelli Arcobelli la parata di Del Giudice in campo ancora Di Palma prova la giocata Di Palma Di Palma entra in aria il tiro c'è la parata di Luigi Mene bellissima giocata il velo per Caputo che poi serve Palma Palma va al tiro ripartire la nuova Ischia spazio Cuomo ora è un po' scoperto il monte di Procida Cuomo avanza lui Cuomo il tiro dalla distanza altissimo cartellini ora è completamente solo Silvitelli Silvitelli il cross per Arcobelli 1-0 nuova Ischia si sblocca la gara al 41esimo minuto riparte ora con il secondo tempo tra nuova Ischia e Montediprocida sul difensore lo marca Zinno ancora Mendilla il cross per Cuomo perfetto Cuomo è stata occupata da numero 7 Dorini intanto riparte la nuova Ischia attenzione a Marano 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 torna dietro da Tizzano cross sbaglia tutto Calise occhio al tiro di Palma Brivido Strasi ferma De Luca lancio lungo l'ennesimo è regolare la posizione e occhio al pareggio del monte di Procida 1-1 qualche metro più avanti occhio adesso al tiro di Di Matteo ancora il monte di Procida con un tiro facile ha potuto giocare pochissimi palloni occhio però al monte di Procida pallone per Caccavale in aria Caccavale che occasione è andato a buon fine il tentativo di Caccavale e ora siamo già dall'altra parte Cuomo Cuomo lancio sul secondo palo per Matarese mette il pallone giù Matarese fuori gioco Arcobelli ma c'è la segnalazione dell'arbitro finisce qui la partita la nuova Ischia pareggia 1-1 con nel dopo partita mister Isidoro di Meglio non nasconde la delusione per il secondo pareggio consecutivo sentiamolo mister Isidoro di Meglio al termine di nuova Ischia a monte di Procida mister un pareggio che visti i risultati delle altre non fa troppi danni però c'è un po' di delusione nell'ambiente per questa vittoria che non è arrivata la delusione la crea l'aspettativa quando uno pensa che di poter fare un sol boccone di tutti gli avversari quando pensa che sta arrivando l'Ischia adesso gli stendiamo il tappeto rosso e li facciamo vincere solo perché si chiamano Ischia questo benvenuti nel campionato di promozione nel senso una squadra va in vantaggio 4-5 volte si presenta tu per tu col partire non chiude la partita questo è il campionato di promozione questo è i campionati che ci troviamo ad affrontare giocatori allenatori presidenti tutti a livello di promozione quindi o si ha la mentalità giusta per poter affrontare cioè quella mi riferisco a quella delle prime partite che non vuol dire vincerle tutte ma vuol dire essere determinati non voler lasciare niente al caso voler essere concentrati sempre sul pezzo determinati allora possiamo fare qualcosa di buono se purtroppo caliamo di intensità e a livello di gioco e a livello mentale purtroppo questi sono i risultati di quello che oggi siamo riusciti ad offrire quindi secondo lei è tutto un problema di mentalità anche all'interno della squadra non ci si riesce in certi frangenti a calare nella realtà che state vivendo no purtroppo no in questo momento ci riesce difficile perché abbiamo concesso due palle goal non ricordo altri tiri del Monte di Precita in un'occasione ci hanno fatto goal nell'altro hanno rischiato di portarsi tre punti a casa e a chi lo andiamo a raccontare che ci siamo presentati 4-5 volte a tu per tu col portiere e non abbiamo fatto goal purtroppo ripeto questa è la situazione se si riesce a maturare a migliorare in queste situazioni allora possiamo pensare di poter dire la nostra fin alla fine purtroppo se è arrivato a un certo punto vogliamo mollare oppure qualcuno pensa di dover andare a fare goal per forza perché così all'indomani sul giornale esce che ha fatto goal non va bene risultato giusto per mister Ambrosino invece che aggiunge con un po' di fortuna potevamo anche vincere sentiamo allora mister una partita iniziata forse non nel migliore dei modi andando in svantaggio nel primo tempo dopo una fase molto combattuta poi avete trovato il pareggio avete sfiorato anche la vittoria direi una domenica piuttosto positiva per voi si considerata appunto la caratura dell'avversario non dimentichiamo che l'esco è il primo in classifica siamo venuti qua a giocare una partita difficile attenta e diciamo che sostanzialmente il pareggio è anche giusto e alla fine con un pizzico di fortuna la possiamo anche vincere siamo partiti un po' contratti abbiamo subito un gol su una nostra disattenzione però non abbiamo mollato abbiamo cambiato modulo ci siamo ripresi alla distanza siete una squadra tosta l'avete dimostrato anche oggi un ottimo carattere a che cosa puntate per questa stagione alla luce di queste nove partite che hanno aperto un po' il campionato ma diciamo che a cosa puntiamo questo non lo sappiamo solo a fine di girone d'andata potremmo fare un primo bilancio però sicuro siamo consapevoli che siamo una buona squadra con dei giocatori esperti e dei giocatori giovani 2000 addirittura oggi tra l'altro ha segnato due 2000 oggi in campo tra l'altro di cui uno ha segnato anche diciamo l'obiettivo è quello di disputare un buon campionato cercando di valorizzare i giovani e poi tutto quello che viene di più per noi sarà sarà ben accetto però di certo noi siamo consapevoli della nostra forza e giocheremo ogni partita contro chiunque avversario per cercare di vincere posso chiederle un'opinione sulla nuova ischia su questa capolista? la nuova ischia sicuramente hanno vera di giocatori importanti esperti che la fanno da padrone in questa categoria se non me non c'entrano niente sicuramente anche le condizioni del terreno di gioco li può un pochino svantaggiare sotto certi aspetti però penso che hanno le potenzialità e le capacità per arrivare fino in fondo e giocarsi il campionato con le altre pretenenti però io penso che ho visto una squadra sicuramente quadrata compatta e ben messa in campo appuntamento tra poco come ogni lunedì con la trasmissione sportiva a bordo campo per approfondire i temi dei campionati di eccellenza e promozione con grande attenzione alle formazioni isolane saranno presenti in studio Luigi Mennella portiere della nuova ischia i calciatori Ciro Saurino del Real Forio e Vincenzo Monti del Barano con loro Lander Nello Calise della nuova ischia e l'allenatore Nello Desiano del Real Forio squadra Juniors è possibile l'intervento dei telespettatori come sempre attraverso Facebook o il telefono la trasmissione va in onda dopo questo telegiornale in diretta con le successive repliche può essere eseguita sia sul digitale terrestre che su smartphone in streaming computer, tablet e smartphone Prima categoria delusione mondo sport finisce 1-1 con il Virtus Sant'Antonio il mondo sport è casamiccio la stecca in casa l'intera gara è stata condizionata dal forte vento che non permetteva di fare buone giocate al tredicesimo del secondo tempo ci pensa Pisani ad equilibrare le sorti della gara con un tiro dai 35 metri che si infila nell'incrocio dei pali alla sinistra di Sorrentino Calcio a 5 brutta sconfitta della futsalischia che cade pesantemente in quel di Arzano subendo un brutto 8-2 non tanto per risultato quanto per la prestazione oggettivamente negativa eppure il gol del vantaggio era stato proprio dei gialloblè a segno con il nuovo acquisto Rino Onorato inutile il gol di Alcatrinei a cui poco dopo segue quello del definitivo 8-2 da parte dell'Arzano nel prossimo turno gli isolani ospiteranno in casa il Cus Napoli e prima vittoria a Casalinga per il fuorio Calcio a 5 è targato Serpico Castaldi la squadra del Torrione si impone per 6-1 dimostrando ottimi progressi rispetto alle prime uscite stagionali di Coppa Campania la prima partita di campionato segna l'affermazione del gruppo Biancoverde anche quest'anno tra i oltre 55.000 partecipanti alla Maratona di New York ci sono stati atleti isolani in questa edizione ha coronato il suo sogno Gennaro De Vita che con una lunga e meticolosa preparazione svolta sotto la supervisione di Michelangelo Di Maio ed allenandosi sostenuto dai suoi amici della Forti e Veloci ha tagliato il traguardo in 4 ore e 38 minuti festeggiando nel migliore dei modi i 61 anni che compirà in questo mese di novembre hanno tagliato il traguardo della prestigiosa Maratona anche Luca Silvestri con 4 ore e 29 minuti e Ciro Pescio in 5 ore e 28 minuti con Emanuele Scotto D'Abusco a fagi da Angelo Custode e consentirgli di conseguire l'ambito obiettivo hanno preso il via i laboratori di vela che l'istituto nautico Mennella offre i propri allievi in collaborazione con la Lega Navale le lezioni si svolgeranno il sabato a bordo delle 7 imbarcazioni a vela della Lega Navale i laboratori sono costituiti da una parte teorica ed una pratica che vede fin da subito gli allievi impegnati in manovre con l'utilizzo delle apparecchiature di bordo e prima di chiudere diamo uno sguardo al meteo il meteo regionale vediamo previsioni per oggi in montagna nudi irregolari con acquazioni intermittenti e con il meteo regionale chiudiamo questa edizione del telegiornale tra poco dopo la sigla vedremo le previsioni del tempo per quanto riguarda l'intera penisola e subito dopo a bordo campo con il direttore Enrico Buono e i suoi ospiti per commentare il weekend di calcio noi ci rivediamo domani alle 14 arrivederci e i suoi ospiti